e piacere mi chiamo alessandro e sono il tuo video com'è il tuo nome vincenzo vincenzo sei di qua perfetto è la prima volta allora di cose più bella non ce n'è ti vedrai modica la tua città dall'alto mi raccomando divertiti ok quello che vuoi ci vediamo in aereo caro grande siete amici accanto vieni vicino vai di chi è stata l'idea bravissimo magari ti ha pagato anche il ok allora ci vediamo in aereo divertitevi urlato e fate quello che volete a dopo ragazzi a destinazione dai cazzo dai gianluca pronto bravo così mi piace spacchiamo tutto spacchiamo pronto dai grande dai 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 Ok. 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 Vai cazzo! Andiamo! Oh cazzo! Cacchiamo! Vai cazzo! Guarda lui! Costa lui! Vai cazzo! Scandarc Tesla Silenzo Maia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.